Pasta con pomodorini gialli, calamaretti e limone, iniziamo! Per prima cosa tagliamo i pomodorini, ora tagliamo i calamaretti, olio extravergine d'oliva abbondante in padella, mettiamo l'aglio, un mezzo peperoncino e facciamo rosolare. Togliamo tutto, mettiamo i calamaretti, facciamo cuocere per un minuto a fiammatta, passato un minuto fumeato con il vino bianco, lasciamo evaporato a fiamma alta, a questo punto li togliamo, nel sughetto mettiamo i pomodorini, regoliamo il sale e facciamo cuocere per 5-6 minuti a fiamma alta. Ora trasferiamo i pomodorini e il sughetto del boccale del mini peeper, frulliamo, passiamo al setaccio e poi saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere la pasta, un minuto prima della fine della cottura della pasta la trasferiamo in padella e la facciamo finire di cuocere ed insaporire bene bene nel condimento. Ci siamo! Spegniamo la fiamma, aggiungiamo i calamaretti, quel po' di prezzemolo, un po' di buccia di limone, ultima mescolata e andiamo ad impiattare. Eccola qua! Mamma mia! Eccola qua!